Noi ci muoveremo con l'ispirazione che ci viene da Seneca che ricordava ai suoi tempi una cosa semplice vivere diceva militare est vivere vuol dire combattere che è il messaggio che intendiamo dare ai giovani della campania non il messaggio dei bonus dei regali a vuoto che sono a mio parere parte di una cultura più che superata e residuale del secolo scorso ma ci muoveremo sulla base di una sfida che dobbiamo lanciare alle giovani generazioni lo stato è il dovere di mettere i giovani in condizione di esprimere la propria creatività ma per quello che mi riguarda neanche un euro che non sia collegato o al lavoro o alla formazione all'impegno di formazione neanche un euro per il parassitismo e per l'assistenzialismo ci muoveremo come abbiamo fatto realizzando unica regione d'italia un piano per il lavoro nel silenzio e nella latitanza anche delle forze politiche riformiste non ci sarà sviluppo senza una pubblica amministrazione di alto livello abbiamo una pubblica amministrazione che ha un'età media nel cui comparti di 60 anni ma quale digitalizzazione volete fare e ancora oggi non si capisce che impegnare nella pubblica amministrazione il suo ringiovanimento e riqualificazione 300 mila giovani è la cosa più seria da fare per i giovani di questo paese un grande investimento nell'innovazione della pubblica amministrazione e delle sue tecnologie altro che bonus